Rappresentanti delle categorie produttive, sindacati e regione hanno dato vita al tavolo dello sviluppo. Lo strumento voluto dal governo regionale del quale i sindacati avevano invocato più volte l'istituzione dovrebbe rappresentare uno spazio di confronto fra le parti sociali e la politica per individuare in modo condiviso le priorità di intervento sul territorio anche in vista della nuova programmazione dei fondi comunitari 2021-2027. Ieri c'è stata la prima riunione con l'insediamento della cabina di regia a cui hanno partecipato anche il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore allo sviluppo economico Mauro Febbo. In rappresentanza delle parti sociali invece hanno preso parte Confindustria, Confcommercio e Confessercenti, Confartigianato e CNA, Confagricoltura col diretti e CIA e i sindacati confederali CGL, CISL e UIL assieme all'UGL. In apertura dei lavori l'assessore Febbo ha sottolineato come l'Abruzzo stia attraversando un momento difficile. Infatti la regione in questi ultimi mesi è stata attraversata da tante pesanti vertenze, molte delle quali hanno causato la perdita di centinaia di posti di lavoro trasversalmente in tutti i settori del tessuto economico. C'è poi da affrontare la questione del sostegno alle piccole e medie imprese che in passato ha rappresentato il cuore del modello di sviluppo economico basato sui distretti industriali. In crisi profonda anche l'artigianato e il commercio, convertenze in quest'ultimo settore che si stanno allargando a macchia d'olio anche nella grande distribuzione. Il confronto nel tavolo di sviluppo, sottolinea Regione Abruzzo, dovrà fornire risposte a partire dal bilancio preventivo che promette il governatore Marsilio arriverà sul tavolo già nella prossima riunione.